Il settore dell'urbanistica non è fermo. È risoluta la replica del sindaco di Fondi Salvatore De Meo e dell'assessore all'urbanistica Pier Giorgio Conti alle affermazioni apprese dagli organi di informazione su un presunto immobilismo nel settore da parte dell'amministrazione comunale. Ed era stato il capogruppo del PD Bruno Fiore ad accusare di incapacità di programmare qualsiasi intervento nei loro settori di incompetenza gli assessori fondani. Ci riferiamo aveva specificato in particolare l'assessorato all'urbanistica guidato da Conti dove si è creato un vero e proprio blackout nel rilascio di concessioni, aggravando a livello locale le difficoltà di un settore come quello dell'edilizia già in profonda crisi. Un settore aggredito negli ultimi anni dalla criminalità organizzata che era in controllo una larga fetta, lasciando alle ditte fondane solo le briciole. Immediata la replica di Conti, sin dal nostro insediamento abbiamo intessuto con costante periodicità incontri reali e limpidi con tutti i tecnici del settore urbanistico che operano sul nostro territorio, per una disamina attenta delle questioni e la verifica di eventuali problematiche, anche per poter recepire proposte utili al perfezionamento dell'operato degli uffici competenti. Tale volontà di confronto è stata apprezzata e proseguirà per tutto il mandato amministrativo. Serpur con un organico sottodimensionato, prosegue l'assessore, i tecnici comunali procedono con celerità e correttezza all'espletamento delle pratiche che vengono trattate in ordine cronologico di ingresso. Le pratiche evase sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Fondi e di conseguenza sono tutte verificabili, assicurando regolarmente la trasparenza degli atti amministrativi. Non è il settore dell'urbanistica ad essere statico e stanno a dimostrarlo sia l'aumento negli ultimi mesi del 20% delle pratiche istruite di permessi di costruzione e di condono, che le oltre 40 pratiche pronte e non ritirate dagli aventi diritto. Ma è tutto il settore delle edilizie a soffrire la grave crisi territoriale, nazionale e globale, che da diversi anni condiziona lo sviluppo economico. In merito agli usi civici l'amministrazione ha ben salda la bussola ed anche in questo settore sta ottemperando i propri compiti e i doveri istituzionali. Stiamo procedendo alla verifica delle alineazioni con l'agronomo Noviello, il quale solo nell'ultimo mese ha proceduto alle stime di ben 10 perizie, con la determinazione del valore di alineazioni di fabbricati ed efficaci su terreni collettivi indebitamente occupati. Riguardo alle legittimazioni, il Comune di Fondi ha richiesto alla Regione Lazio di nominare il perito demaniale che dovrà procedere per la materia di sue competenze e ci risulta che tale nomina è ormai imminente. Una replica che non basterà a stemperare le polemiche sulla delicata questione.